Molto molto spaventati. Sono solo molto spaventati. Se adesso riesco a accarezzarlo quando era lì, a me piacciono accarezzare i gatti così, hai capito? E devo avere il tempo. Stamattina sono stata qui un po', anche con quei befanotti là. Quello che non riesco sono questi. Ma non ne sono mai impegnati neanche, però quell'attacco non più. Posso? Ho paura che scappa fuori di lì, eh? Però è un progresso, voglio dire. È il tuo giorno oggi che li tocco, eh? Questo vado.